Buonasera a tutti, siamo in diretta da Mirto Acrosia Cosenza per l'inaugurazione dell'Air Studio di Natasha, immagine donna. Venite che vi faccio visitare quello che è l'Air Studio, signori siamo in diretta. Salve, l'Air Studio, Rosalda, la receptionist, presentatevi da sole. Andiamo nella zona relax, vedete effetti di luce particolare con la doccia. Luce RGB che cambia colore, percorsi di luce a terra e percorsi di luce a terra. Natascia saluta che sei in diretta. Buonasera a tutti e grazie a tutti per il vostro affetto. Grazie Natascia. Questa è l'altra camera, qui si può fare il massaggio di coppia, quindi non preoccupatevi, quindi marito e moglie, fidanzati, venite a fare il massaggio di coppia perché tramite questa porta ci sta il massaggio di coppia, sempre luce che cambia colore. doccia emozionale, climatizzazione. bellissima, 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 complimenti, grazie signora. bellissima, 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 bellissima. bellissima, 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 bell Questa qua è la zona taglio, qui in particolare abbiamo, vi spiego subito, dei monitor, questi monitor servono per sia vedere il taglio dal lato superiore, quindi con questa telecamera voi vi guardate il taglio sulla vostra testa e di più potete vedere la televisione anche in orari che siete impegnati con le vostre telenovelle. Questo qua è il tetto, vedete che bellissima poltrona per la zona trucco. Qua siamo in un'altra nicchia, la zona lavaggi, molto particolare, molto scurata, con questo telo a tetto, è un telo nero riflesso. Tutto questo, signori, in 85 metri quadrati, eh? Ecco qua la zona lavaggi. Seduti comodamente con la testa si vedono sul telo le zone riflesse. Prodotti della Nashi Presentati Luce soffusa Vedete i monitor questa è la hall dove c'è una recepizionista con una bella recepizionista grazie 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 grazie